Follettine e follettini, salve e benvenuti in questo Discutiamo's, stavolta di lunedì. Non ho potuto fare la live purtroppo ieri perché erano in un concerto, tra l'altro ho ancora una rimanenza, era un concerto di Justin Bieber, so che non me ne frega magari niente, però se volete potete seguirmi su Instagram per capire un po' più di cose. Ho anche espresso il mio parere subito con un post secco, una storia secca sulla gara insomma. Ci sono tante cose da dire comunque, quindi non perderai troppo tempo. Tuttavia c'è una cosa che mi ha fatto sbellicare dalle risate. Ditemi che anche voi l'avete trovato divertente, vi prego per favore, vi supplico. Lo so, siamo in Italia, ci sono tantissimi tifosi Ferrari, tantissimi tifosi di Leclerc, tanti tifosi anche di Carlos Sainz, però voglio parlare prima della Red Bull, dell'impresa storica che la Red Bull ha fatto. Intanto sfatiamo i miti su questo circuito, è un circuito dove non si passa, bla 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 e c'è... No, beh, non è proprio così. Ultimamente le gare sono molto divertenti, parlo degli ultimi otto anni, almeno tre o quattro ce le ricordiamo molto bene, rispetto a tante altre gare, magari anche proprio di Monza, per dirvi, che è un circuito adatto ai sorpassi. Con queste letture del 2022 comunque c'è un grandissimo flusso di sorpassi nel corso del weekend, perché la cosa buona è che riescono a stare vicino uno con l'altro. È uno dei grandi vantaggi e dei grandi sviluppi che effettivamente ha funzionato quest'anno. Dunque bisogna dare merito a questo regolamento. Infatti il Gran Premio è stato veramente molto bello, nonostante non abbia piovuto. C'è stato un po' il rischio, naturalmente, un po' come l'anno scorso, o no, da qualche anno fa mi pare, che la pioggia doveva arrivare entro 12 minuti, non è mai arrivata. Però c'è sempre questo team radio, 12 minuti, 12 minuti, 12 minuti, poi è arrivata alla fine della gara. Spettacolare. Tra parentesi non la reputo nemmeno una pista così tanto noiosa. A me non piace personalmente perché nel simracing, nel virtuale, l'ho sempre odiata, mi è sempre andata veramente male, forando al penultimo giro, quando ero in testa in un Gran Premio molto importante per la mia carriera virtuale. Però vabbè, a parte questa cosa che è una roba molto soggettiva, in realtà ci fa apprezzare, perché è un circuito che non ti permette chissà che di errori, ecco. Chiusa parentesi del circuito, ma di che impresa stiamo parlando? Ma non c'è stata nessuna impresa. La Red Bull è il secondo team più veloce, secondo me, al momento, in Formula 1, che ha il miglior muretto, il miglior pilota in circolazione in questo momento, e dunque viene da sé che sarebbero stati molto avanti. Ovvio, non pronosticavo nemmeno io una vittoria, ma detto francamente, fra me e voi, chi si aspettava un sesto, settimo posto di Max? Chi si aspettava quantomeno un quarto posto? O un terzo posto davanti alle due Mercedes? Perché le Mercedes sarebbero dovuto essere il terzo team in questo Gran Premio. In realtà non è così. Quindi, comunque sia, lode a Max, perché la Red Bull ha sempre dimostrato, è vero, che con basse temperature riescono facilmente a mettere in temperatura gli pneumatici, e ad andare molto forte costantemente durante lo stint, cosa che non riescono a fare quando le temperature sono un po' più alte, e c'è da dire che hanno lavorato molto bene fin dal venerdì. Ovvio, una cosa che ha aiutato tantissimo, in realtà, che non si parla, non si dice molto, è che la Power Unit, bella fresca, che potevano smarcare perché sono arrivati alla terza, quindi ultima Power Unit disponibile, almeno per quanto riguarda alcune componenti, diciamo che aiuta perché sono cavalli freschi che vanno a dare manforte in una pista dove i cavalli forse non servono, però io vi dico che ogni accelerazione i cavalli si sentono, e anche sul dritto i cavalli si sentono, e il rettilineo dell'Ungheria non è poi così tanto piccolo. Con questo giochino Max Verstappen vince il Gran Premio. 80 punti sono quelli di vantaggio rispetto a Charles Leclerc, però vi devo dire anche un'altra cosa, guardo qui la classifica perché ce l'ho qui, ragazzuoli. Tra Leclerc ed Hamilton ci sono 32 punti, questo vuol dire che Hamilton è a 112 punti dalla vetta, ma ha solo 32 lunghezze da Charles Leclerc. Chi lo avrebbe mai pronosticato? Chi avrebbe mai pronosticato che Hamilton potesse avere più podi di Charles Leclerc? Non sto scherzando, Leclerc ha collezionato 5 podi, Hamilton 6, di cui 5 di fila. Ah, e se vogliamo essere ancora più cinici, ancora più cattivi, poi torniamo al discorso Red Bull, iniziando magari con le Mercedes-Ferrari, la Mercedes ha collezionato gli stessi identici podi della Ferrari, perché Russell ha quota 5 come Leclerc, a quota 6 Sainz come Hamilton, quindi 11 a testa. Se sentite i gatti in sottofondo, ragazzi, si stanno menando tra di loro, mi dispiace. Detto questo, onore al merito a Max Verstappen, onore al merito, chiaramente anche a George Russell e alla Tiffy, nell'epitre, per aver fatto una meravigliosa pole position delle prove libere. Peccato per il suo giro in qualifica, è peccato anche quello di Albon, perché compromette non poco, hanno compromesso non poco la gara, insomma, quella delle Williams. Però perdonatemi, non me ne vogliate, ho dato merito a loro due, perché se lo meritano, ovviamente, ma sia in qualifica che in gara, la Ferrari ha perso due occasioni, due potenziali vittorie. La pole position è chiaramente la vittoria. No, la vittoria. Mi spiego, Giorgino è stato veramente, veramente molto bravo, perché nel T1 e nel T2 era a 40-50 millesimi dai migliori tempi di Carlos Sainz. Il fatto è che Carlos Sainz ha completamente toppato il settore 3, dove era circa un decimo e mezzo, due decimi quasi, più lento della sua precedente prestazione. Ecco perché Carlos Sainz, pur facendo dei fucsia, così come ha fatto dei fucsia anche da Clark, non è riuscito a portarsi a casa la prestazione, perché Russell, che nei primi due settori era veramente vicino alla miglior prestazione in assoluto, ha concretizzato quanto di buono c'era in questa Mercedes e ha ottenuto la pole position, senza però fare il settore dei fucsia anche nel T3. Questo vuol dire, almeno ciò che io vedo dai dati, è che Russell ha ottimizzato tutto il pacchetto, mentre Ferrari no. Ma questo, vabbè. Ci sono comunque 70 giri da percorrere, c'è tutto il Gran Premio e soprattutto sono due lance contro una, due piloti che possono attaccare George Russell. Sicuramente in Ferrari differenzieranno la strategia, perché potrebbe arrivare a piovere, potrebbero coprire un pilota piuttosto che un altro, potrebbero effettuare due strategie completamente diverse. No, Russell parte con le soft e le due Ferrari con le medie. Devo essere sincero, non l'ho vista di buon occhio questa scelta e io di occhio funzionante non soltanto uno, che è questo qui, questo qui, ciao ciao, vi lascio le info su che cosa ha questo occhio nel caso. C'è un problema, c'è un altro problema che però bisogna vedere un attimo dal venerdì, bisogna quindi tornare a monte. La Ferrari andava fortissimo il venerdì, quando le temperature erano caldissime. Secondo me, secondo me la mancata prestazione di Ferrari è tutto un mix di cose, in cui chiaramente prevale il problema della strategia, l'errore della strategia, oltre che quello dei box, perché effettivamente non hanno azzeccato un pit stop. La Ferrari con pista calda è imbattibile, soprattutto in un circuito di Ungheria che esalta le prestazioni dell'F175. Ovvio, perfetto. Io mi chiedo però, Meteo France, che è il meteo che più o meno guardano tutti, ma anche il meteo, non lo so, prendiamo il telefono in mano, e anche quel meteo lì, dice probabilmente che sono attesi tot gradi per sabato e per domenica. Sabato e domenica infatti non ha fatto, chissà che gran tempo. Le temperature erano molto più basse, quindi perché non lavorare su un setup un po' più per quelle condizioni? Lo sappiamo, la macchina fa fatica a scaldare le gomme e questo è fuori discussione. È un problema anche che quest'auto ha, uno dei pochi difetti che quest'auto ha, oltre all'affidabilità, ma quando l'affidabilità c'è, la macchina è un mostro. Ma torniamo in gara, c'era la possibilità molto elevata di pioggia all'inizio del Gran Premio e si montano le gomme medie con tutti e due i piloti. C'era il rischio che le soft non potessero funzionare a causa del graining, perché il graining si manifesta quando la temperatura è molto bassa e tu sfrutti un po' troppo la gomma, e il che è normale. Quindi dico, va bene, andiamo con medie medie. La gara non va proprio secondo i piani della Ferrari, fanno una finta dei box, chiamando Sainz ai box, ma non ci va. Questo vuol dire che Russell rientra, perché viene un attimo fregato e deve provare a difendersi chiaramente con l'Undercut. Undercut che comunque funziona, montano la gomma media su Russell e rimontano la media anche su Sainz. Leclerc fa qualche giro in più rispetto a Sainz con la mescola media che aveva fin dall'inizio, dimostra di essere nettamente più veloce, perché effettivamente stava molto vicino al compagnolo di squadra già nel primo stint, e nel secondo stint, grazie a un overcut, riesce a passarlo. A questo punto, la pedina più veloce in gara, perché in qualifica ha fatto fatica, ovvero Leclerc, è davanti e va a caccia di Russell. Lo supera, riesce a superarlo, e la distanza, prima del pit stop di Leclerc, tra Sainz e Leclerc, è di 7,3 secondi. Giro 38, rientra Max Verstappen e box, monta le mescole medie, e andrà fino in fondo, perché lui era partito con gomma soft. Al Giro 39, succede il disastro. Leclerc scende in pista, o meglio, lo fanno a scendere in pista, con le gomme dure. Quindi, ricapitolando, Leclerc si è fermato 4-5 giri dopo Sainz, ma si ferma poi, prima di Sainz, per mettere le gomme dure, che dal Giro 17 aveva Ocon, e non funzionavano, tant'è che l'Alpin ha fatto lo stonks al contrario, l'un stonks, non so come si dice ragazzi, comunque è andato a picco. Bene, devo dire, molto bene, le gomme su Leclerc non funzionano minimamente, viene passato come se niente fosse da chiunque. Viene passato in manchina nocidica da Verstappen, che fa un 360, e poi, no scope, va avanti e riprende la posizione poco dopo, e al Giro 48, se non vado errato, o 47-48, rientra anche Carlo Sainz, per montare la gomma soft. Quindi Carlo Sainz ha fatto 30 giri, praticamente, con la mescola mediales nel secondo stint, con un passo gara molto più lento rispetto a quello di Leclerc, ma con più giri, decidono di fargli fare la sosta per mettere le soft. La strategia perfetta, la strategia migliore, media, media, soft. Quello che con Leclerc non hanno fatto, la cosa che più mi dà fastidio, è che media, media, con Leclerc ci stava. Il moretto, ha fatto rientrare più tardi Leclerc, alla fine del primo stint, ma poi ha fatto rientrare Leclerc, molto prima, nel secondo, quando aveva un cospicuo vantaggio, su Russell e su Sainz, e poteva amministrare benissimo, il vantaggio, poteva girare più forte con le medie, rispetto a quelle dure, i dati dicevano quello guardando l'Alpin, e poi con le soft avrebbe sicuramente fatto molto meglio dello stint con le dure. Ha girato 2-3 secondi più forte quando aveva montato le gomme soft, è vero, aveva meno carburante, ha visto un po' più gommata, ma la vista gommata a un certo punto raggiunge il livello limite, non è che si può andare molto più avanti. facciamo due secondi abbondanti più veloce con gomma soft, soprattutto se proprio non si volevano fare 23 giri con Leclerc, con la gomma rossa, si potevano fare forse 16-17 giri con quel treno di gomma morbida, invece Leclerc rientra in box dopo pochi giri, perché le dure sono un fallimento colossale. Signori, Leclerc arriva sesto, dopo essere stato in testa, per buona parte del Gran Premio, senza poter avere la possibilità di lottare per la vittoria, anche se ha lottato contro il leader, e il precedente leader del Gran Premio, ovvero George Russell. Cari miei, questa la vedo come una sconfitta su tutti i fronti. Sapete che io lavoro per il team eSports di Ferrari, e sabato sera io ho lavorato. Abbiamo avuto una gara a Spa, in Belgio, proprio direttamente ai piloti, io ero qua da remoto a Maranello, nel remote garage, e io tra le varie mansioni che faccio per il team eSports di Ferrari, lo so, non è a livello del team reale, bla bla bla, sono sempre videogiochi eccetera, comunque dobbiamo portare il marchio Ferrari al top, anche nell'eSports. Ho scelto di fare l'overcut con Davito Nizza, che da terzo si è catapultato primo, soprattutto battendo Lamborghini, quindi direi molto bene. Abbiamo fatto l'overcut e ha funzionato, e abbiamo fatto la stessa strategia del pilota Lamborghini, con Camille, che è l'altro pilota Ferrari, e Camille ha superato i box, il pilota Lamborghini, con un pit stop migliore rispetto al pilota Lambo. Quindi eravamo in prima e seconda posizione, con la strategia perfetta. Possiamo perdere che a 5 minuti dalla fine si è disconnesso in una LAN Camille. Non so per quale motivo, non so come, l'unico su 24 che ha avuto quel problema lì, e poverino ci è rimasto molto male. Però comunque sia, sono contento di aver azzeccato la strategia, ma è una cosa di cui mi occupo praticamente da 2-3 anni, quindi comunque posso avere un certo feeling con questo tipo di strategie. Lo so, è molto strano, lo so, non è la stessa cosa, però parlo anche riferito al mondo e-sport di Formula 1. Questo era assetto corso di competizione invece in GT. Mi voglio forse candidare per qualcosa, mi sto elevando a qualcosa di più grande. No, no ragazzi, no. Non vi dico questo, non voglio essere, sembrare un po' troppo stronzo, però comunque a parte questo, a parte gli scherzi, a me viene sinceramente da ridere, ma è meglio riderci su, perché ogni domenica il pronosticabile diventa decisamente impronosticabile. Era impensabile che la Ferrari in Ungheria, con qualsiasi temperatura, sbalzo termico, pioggia, catastrofi, non finisse sul podio, almeno con una vettura. E invece è successo. È vero, con Carlos Sainz hanno fatto media, media soft, la strategia migliore, o comunque la seconda migliore, a parimento, secondo me, con la soft media, media. È vero anche, come dicevo all'inizio del discorso, che Sainz ha fatto da tappo Leclerc, per il primo stint, nel secondo stint, non aveva per niente passo, e nel terzo stint, non riusciva a recuperare su Russell. Un po' inspiegabile come situazione, forse non si trovava lui a suo agio, però Leclerc gli stava dando una gran pista, dopo il primo stint. Sette secondi, non sono pochi a parità di macchina. Quindi, nel modo di vedere, Leclerc poteva puntare alla vittoria, quantomeno lottare per essa. Ma, come sappiamo, non è andata così. Quindi, meritatamente Red Bull è in testa al mondiale piloti, e mondiale costruttori. Ah, e volevo dirvi anche un'altra cosa. Ho guardato la gara in streaming, perché stavo andando, verso un'altra direzione, veramente, verso il concerto, e stavo guardando la gara in streaming, da qualche parte, in autogrid, eccetera, in questa qualità, per la maggior parte del tempo. Poi mi sono accorto che sul mio smartphone, avevo NordVPN, l'app NordVPN installata, e allora mi sono collegato, da un remoto autogrill in Italia, in Svizzera, sì, in Svizzera, per guardare il canale R6. E da lì, ho visto la gara in piena, piena tranquillità, e con una grandissima fluidità. Perché sì, ragazzuoli, NordVPN, che è lo sponsor di questo video, e di tutti discutiamo, da qui fino a dicembre, quindi grazie carissimi ragazzi della NordVPN, oltre a essere la rete virtuale privata più veloce, con il suo sistema, veramente, veramente, veramente semplice, con un just quick connect, praticamente, possiamo trovarci dall'altra parte, del mondo, anche volendo, e fisicamente il nostro smartphone, tablet, o pc, è connesso, lì, e lì, è come se fosse lì. E tra le altre cose, NordVPN vi dà anche, una sicurezza invidiabile. Infatti potete anche accedere con dei wifi, non sicuri, ma tranquilli, che con NordVPN poi all'interno, ma navigate tranquilli. Questa è una cosa che adoro, che è fantastica, che mi ha aiutato tantissimo in Messico. E tra parentesi, adesso che c'è la pausa estiva, finalmente vi faccio uscire i video del Messico, quando sono andato da solo, a vedere la Formula 1. Sono da pelle d'oca ragazzi, quei video, sono da pelle d'oca. Ah, e naturalmente avrete uno sconto grandioso, se scaricate NordVPN, seguendo questo link, qua sotto, questo qui ragazzi, trovate anche in descrizione, pingato come primo commento. E vi ricordo che avete anche ben 30 giorni, per essere soddisfatti, o rimborsati, se il servizio non vi piace, però secondo me vi piacerà. Tornando a noi, Mercedes, è qualcosa di particolare, bisogna andare a vedere un po' tutto, l'arco della stagione, per capire dove sono arrivati, e come hanno fatto ad avere una vettura così tanto competitiva. E change my mind, se Hamilton fosse partito un pelo più avanti, e non avesse avuto problemi in qualifica, con il DRS, e ciance varie, avrebbe potuto vincere il Gran Premio. Ma, ancora di più, dopo la super partenza, dove le due Alpine, sono state superate abilmente. Grazie Ocon, complimenti Ocon per aver stretto compagno di squadra con me. Non lo so, veramente. L'anno scorso ti ha fatto vincere il Gran Premio. Bravo. Dicevo su Lewis, se avesse superato prima, Lando Norris, forse avremmo parlato di un Gran Premio differente, di un Gran Premio dove Hamilton, si sarebbe portato a casa, il nono successo in carriera, in questa pista ungherese. Ma questa è un'altra storia. Sono molto contento tuttavia, del suo quinto podio di fila, e del suo ennesimo risultato davanti a George Russell. Perché la critica, veramente, non risparmia mai Lewis. Nessuna rassegna stampa, nessuno. Però sono contento che alcune rassegna stampa si rivedono, e raguardano, e capiscono un pochino di aver, forse, calcato un po' troppo la mano sull'essere, un po' contro Lewis, per esaltare la pole position di George Russell. Questa è una cosa fantastica, che ho veramente molto apprezzato. Alla fine ciò che conta è arrivare al traguardo, e Hamilton penso che abbia fatto veramente una bellissima, grandissima gara. Una grande prestazione. Dunque spero che i detrattori, che comunque tanto ci sono sempre, i sette titoli cartoni, e vabbè cartonato, Lewis Hamilton forse, sembra sempre essere magari un po' più reale, talento reale. Anche perché se voi giudicate Alonso come un grandissimo pilota, io vi ricordo che nel 2007, Alonso Hamilton ha concluso a pari punti, con Hamilton davanti, per risultati. Secondo me, Hamilton verrà rimpianto tantissimo. Come verrà rimpianto Sebastian Vettel? Parlerò di lui, quando si ritirerà dopo Abu Dhabi, dopo l'ultimo Gran Premio, al suo 299esimo Gran Premio della carriera. decimo posto per lui, sono contento che era il diciottesimo posto, arrivato al decimo posto, ma tuttavia vi devo dire anche un'altra cosa. L'Alpine non si sa come è arrivato in zona punti con entrambi i piloti, nonostante quella strategia suicida, che ha fatto capire a molti team, non tutti evidentemente, che la dura non poteva andare. Lando Norris si è difeso come poteva, hanno un gran potenziale in qualifica, ed evidentemente puntano molto più sulla qualifica che sulla gara, perché la macchina non ne ha così tanto. Ricciardo ha fatto il sorpasso del weekend, penso della gara sicuro, perché il doppio sorpasso sull'Alpine è qualcosa di spettacolare, spettacoloso, tuttavia è scivolato fino al sedicesimo posto, se non vado errato. Daniel, 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 speriamo che possa fare meglio, peccato che non si trovi per niente a suo agio con l'impianto frenante, ed è la cosa più importante in Formula 1. Sono le confidenze sui freni, ragazzi, anche nella vita reale. Vi sfido a vivere, sono i tranquilli. Alfa Tauri e Alfa Romeo assolutamente non... non pervenute, con Bottas che decide di terminare la prima del Gran Premo per un problema tecnico, cioè adesso si chiama così. Voleva vedere la 24 ore di Spa, la fine della 24 ore di Spa, insomma. Penso che sia stata comunque una gara piuttosto godibile, perché abbiamo tre piloti, o meglio, tre team davanti, che possono forse vincere, forse no, o comunque essere lì. Adesso la Mercedes è effettivamente un outsider, dunque attenzione perché potrebbe rubare punti. Ma rubare punti a chi? A chi effettivamente? Se ci pensiamo, ragazzi, ormai non ero così tanto critico dopo Francia, ma dopo l'Ungheria, Pausen adesso è stiva, per carità è tutto, non so più cosa dire. 80 punti da recuperare in un campionato sono veramente troppi. Io starei più a guardare chi c'è dietro, che chi è davanti, fossi nella scuderia Ferrari. Da me è tutto ragazzoli, spero che questo discutiamo vi sia piaciuto, ci vediamo presto con altri appuntamenti e altri video, sono usciti tanti gameplay in passato, usciranno anche delle cose in più per gli abbonati di Twitch e di YouTube. Voglio bene, ci vediamo in live. Ciao!